Rivediamo il suo scatto in posizione regolare sul filo del fuorigioco, si inserisce Danny, grande scelta di tempo per Deco nel fornire questo pallone basso per il compagno, rivediamo Difesa tagliata in due dall'assist del trequartista del Chelsea E il vantaggio firmato da Danny, abbiamo detto giocatore nativo del Venezuela, ha iniziato a giocare a Madeira con il Maritimo Sulla solita cerniera di sinistra, Fabio Contra o Danny, la velocità del giocatore dello Zenit, questo pallone basso invitante per Ugo Almeida che deve soltanto deviarlo nella porta per siglare il gol del 2-0 L'opportunismo perché entrambi i suoi gol sono stati abbastanza semplici Il primo sulla grande iniziativa di Danny e poi questo il secondo dopo la respinta corta di Damasso il tiro di Cristiano Ronaldo Sinistro chirurgico da parte di Ugo Almeida Grazie Grazie